Io provo a fare un ragionamento che però parte dalle considerazioni fatte al consigliere Sarro e al consigliere Lomino e poi da Lomisunti. Io questo documento non l'ho neanche guardato, perché a differenza di qualche consigliere comunale che magari ultimamente ha pensato che la mia presenza a organizzare le riunioni, le prime riunioni della consulta sia a volo da cercare visibilità, la mia presenza è stata quella di accompagnare quando la consulta si è data agli organi preposti, oggi chiudo l'iter e io già da 3-4 milioni che non partecipo più con loro e non intendo più partecipare. Non certo per l'entusiasmo con cui partecipo o con cui loro partecipano con me ma però da valito a qualche consigliere che ovviamente in questi mesi ha pensato bene di continuare a dare istruzioni per l'uso anche nella gestione delle varie sedele. Rifaccio il percorso perché appunto qualcuno non sa che con un assedito, anche se era prescritto a tutti i palmi, abbiamo cominciato il primo incontro 7-12-2009, il 7-1-2010, il 28-1-2010, il 17-2-2010, 5-3-2010, 12-3-2010, 22-3-2010, 31-3-2010, 15-4-2010. Riunioni di tre, quattro ore in una, bellissime, a cui io ho partecipato più che altro come moderatore e basta. Hanno preso semplicemente uno statuto presente, che so, mi ricordo, forse a Tardisio, più che a Trediso, più da qualche altro comune dove le consulte funzionano. Lo hanno ritoccato, dipingendolo sulle realtà locali, quindi esce il fatto che questa è una consulta della carta, non deve essere una consulta di Tormezzo, perché Tormezzo è a vocazione plazzotta, no? E' un obbligo. Quindi ci 19 anni ne hanno discusso perché comunque in 35 anni il Parlamento europeo ve l'ha definita da qualche parte, ma hanno dato loro. Io quindi ho solo ascoltato. Per quanto riguarda la partecipazione delle assemblee, è stata costituita un'assemblea in cui 70 erotti ragazzi, quali consigliere c'era, hanno fatto una votazione che ovviamente non si poteva perdere a un momento così importante, perché forse questo tecnicismo che qua dentro si è voluto oggi insinuare, è quello che è allontana dalla politica, tenete presente, sono proprio i tecnicismi dei contrapesi che allontanano i giovani della politica. Avete una grossa occasione, e ve lo dico perché dentro c'è gente di destra, di sinistra, di centro, non c'è gente particolarmente, e c'è gente anche non schierata. C'è un entusiasmo che ha prodotto una serie di iniziative che ci invidiano già oggi di parecchie amministrazioni comunali che non riescono ad avvicinare i giovani. Io quindi, senza entrare più nella discussione, perché rispetto, io ho prodotto così come non ci cambiano neanche una virgola, perché questo è un prodotto di, è anche presente tra l'altro, lo posso nominare, Tommaso Capello, che ha elaborato, sì, ma un gruppo di lavoro, ora anche lì, i gruppi di lavoro sono antisincronisati, ma sono giovani, cosa devono fare? Vabbè, vabbè, ragazzi, sì, io mi meraviglio di aver sentito oggi queste cose pensando, io spero non sia il tentativo di pensare che alla fine si vuole sviluppare questo lavoro pensando che il regista di tutto questo sono io, perché io ho già detto, come ho detto in occasione della Procco, da cui mi sono messo, perché a qualche consigliere lo fastidio, che io a consulta non potendo più partecipare, se mi vogliono vedere ve lo devo mettere per iscritto, se faccio qualche attività collegata con le loro attività, non è colpa viene da colpa di nessuno, fatevi una ragione, per quanto riguarda tutta una serie di risposte sui gruppi, ci sono, perché qualche gente qualcuno non lo sa, ci sono associazioni dedicate proprio solo all'attività svanile, fatte da gente che è sotto un'età e quindi ha tutte le caratteristiche, certamente non era troppo il tormezzo, ma la Partizor o l'Ampere o altre associazioni già costituite hanno trovato l'alchimia per potere, siccome legalmente anche qua si sa che non si può aprire quello che aveva fatto a giro d'Italia un'attività della conciuta giovanile senza una proposizione fiscale, quindi si devono appoggiare per forza queste associazioni e hanno trovato gli equilibri, quelli che hanno ripetuto loro, secondo le loro opinioni libere, tra l'altro posso dire che certi condizionamenti sono venuti da una, giustamente da una parte politica che ne rappresenta, che mi ha chiesto garanzie e quindi ha inserito il discorso dei sei mesi, la votazione e quant'altro, cose che io ho sempre detto, avrei fatto tranquillamente almeno perché ripeto, ho finito oggi, io con loro non ho niente a che fare, sono un organismo libero, potete contattare chi e dove volete, l'unica cosa che vi posso dire, c'è il rischio da quel gruppo lì, e questo lo dico chiaro, a tutti, compreso, maggioranza posizione, da quel gruppo lì c'è il rischio, ed è un gravissimo rischio, che esca il gruppo dirigente di prossimi anni di fornezza, e c'è un grave rischio, e vi invito a cercare di, possibilmente, fermarvi, che magari qualche merito di questo ce l'abbia, l'unico sistema per evitare questo disegno criminoso che io penso in campo, e nei loro ma che non sono in particolare, è quella di dedicare qualche ora nella propria giornata, tolta alla propria famiglia, ai propri figli, alle proprie attività, e lo vendi a loro, grazie.